ciao benvenuti cari amici di penelope oggi andiamo a vedere chi sta arrivando nella sua vita lo farò con tre mazzi di carte il primo mazzo di tarocchi con l'amethista il secondo con l'avventurina verde il terzo con il quarzo rosa non darò non do tempi in questo video quindi avrà valore dal momento in cui tu lo vedrai ti lascerò giù sotto nella descrizione del video i tempi per andare direttamente a ciascun mazzetto così come anche le informazioni per le carte che ho creato io direi di partire subito andiamo a vedere chi sta per entrare nella sua vita partiamo dunque vediamo per l'amethista chi è che sta per entrare nella tua vita senza tempi e te lo ricordo andiamo a vedere partiamo un po dagli oracoli questi sono gli oracoli volume 2 trovi tutte le info giù nella descrizione di questo video allora per l'amethista per coloro che hanno scelto l'amethista chi sta per entrare nella loro vita chi sta guarda subito questa carta è fra l'altro molto a tema alleanza e comunanza di interessi ora non guardate che nella foto nell'immagine ci sono due donne dovete guardare quello che fanno quello che rappresentano cioè una persona ok alleanza e comunanza di interessi quindi una persona con cui avete un qualcosa in comune ok un interesse in comune magari il lavoro in comune magari un qualcosa che vi piace che piace ad entrambi diciamo è sicuramente sarà sicuramente questa persona che arriverà una persona con cui avete un interesse in comune un qualcosa in comune o qualcosa che vi piace nello stesso modo o magari come stavo dicendo magari andate nella stessa palestra magari lavorate insieme oppure fate lo stesso lavoro qualcosa di questo tipo nel taglio poi fanno vedere anche abbondanza in vista quindi qui potrebbe trattarsi anche di una persona per esempio benestante ok una persona che insomma ha raggiunto un certo senore nella propria vita andiamo a vedere per l'amethista chi è che sta per entrare nella tua vita amethista per l'amethista l'apparenza inganna non tutto è come sembra e subito dopo segui il tuo cuore che è una carta molto istintiva molto impulsiva no ci saranno lacrime del taglio molto istintiva molto impulsiva qui fanno vedere questo giovanotto che si chiappa la 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 ragazza davanti a tutti piglia la bacia cioè non è che si faccia molti calcoli né pensieri problemi fa quello che gli detta il cuore quello che gli detta il cuore in quel preciso istante andiamo a vedere ancora per l'amethista ora poi vi dico tutto è ok dentro di te già lo sai guarda come bella questa questa immagine qui molte carte sono carte di cuore e di istinto di un qualcosa proprio a pelle andiamo a vedere attrazione puramente fisica ok e nel taglio uscite e divertimenti in compagnia ma allora la persona che entrerà prossimamente nella tua vita è senz'altro una persona come ti stavo dicendo con cui hai un qualcosa in comune magari anche semplicemente visto tutte le carte che sono uscite anche qualche amico in comune magari sarà un amico in comune che vi farà o che vi ha fatto conoscere ora dicevo in questo video se riconoscete una persona che avete appena conosciuto magari ci stanno parlando proprio di quella persona lì ok quindi che deve arrivare ma appena arrivata insomma va bene quindi una persona con la maniera sicuramente un uomo una donna dipende insomma tu chi sei una persona potrebbe essere benestante o comunque avere un buon lavoro una buona una buona posizione sociale eccetera eccetera una persona istintiva anche ma anche non molto non troppo aperta qui tutte le carte me lo fanno vedere quindi potrebbe essere una persona che o che non si è ancora dichiarata o che non si dichiara così facilmente ok non dice quello che prova così facilmente non tira fuori così facilmente quello che prova ma tende a tenere le proprie emozioni e propri sentimenti per sé ok però insomma queste sono carte anche senz'altro di attrazione qui fanno vedere senz'altro l'attrazione fisica sessuale sicuramente ok quindi questa persona senz'altro sarà molto molto attratta da te anche forse proprio dal tuo fascino dal tuo velo di mistero cioè io qui ti vedo una persona anche almeno ai suoi occhi agli occhi di questa persona che arriverà una persona anche un pochino misteriosa tu o misteri una persona misteriosa quindi uomo donna che tu sia ok quindi magari all'inizio non ti inquadrerà subito ecco la potresti conoscere come stavo dicendo in un locale in un locale in un negozio su un luogo di lavoro fra la folla eccetera I can change my thoughts vedi posso cambiare i miei pensieri quindi e qui sotto c'è il cambiamento anche nel nel taglio quindi una persona che magari inizialmente non ti aveva notata per esempio ok ma che ti noterà poi in un secondo in un secondo momento o che si era fatta un'idea di te che invece non è quella non è quella che avrà poi non so se mi spiego come se dovesse cambiare idea su di te sulla tua persona prima magari si era fatto un'idea e poi invece si rende conto che sei una persona diversa da quello che aveva da quello che aveva pensato quindi anche in questo senso posso cambiare i miei i miei pensieri andiamo a vedere ancora chi sta per entrare nella vita della metista vediamo cosa ci dicono queste carte poi tiriamo proprio i tarocchi fai attenzione alle bandiere rosse tieni la mente aperta e fidanzamento vedi allora questa potrebbe essere proprio nel vero senso della parola anche una persona fidanzata lo dico perché oltre al fidanzamento ci sono le bandiere rosse che ci dicono attenzione c'è qualcosa che non va ed effettivamente qui la carta un pochino ci aveva messo sul chi va là ci dice non tutto è come sembra quindi fai attenzione non è tutto come così come lo come lo credi come lo pensi però insomma nello stesso contempo ti dice pure di tenere la mente aperta la carta va bene quindi potrebbe essere proprio la persona anche una persona di larghe vedute una persona molto libera lo dico anche da queste carte qua una persona è come ti posso dire non troppo ottusa non troppo chiusa mentalmente ma proprio aperta anche un po libertina se vuoi in un certo senso va bene proseguiamo vediamo con i tarocchi chi sta per entrare nella vita della metista chi è la persona che sta per entrare nella vita della metista ok guarda proprio gli amanti che è uscita proprio la carta degli amanti dell'amore della coppia ora ve le traduco tutto il 2 di spade il 2 di spade chi sta per entrare nella vita di chi ha scelto la metista il fante di coppe chi sta la morte chi sta per e la giustizia eccola ma allora è qui sotto il mazzo anche il 9 di coppe quindi carte anche molto molto belle vediamo io spero le spero le vediate ma allora qui senz'altro guarda questi amanti ora non c'entra nulla la carta però mi fanno vedere senz'altro come dicevamo prima una persona con cui veramente condividiamo qualcosa condividiamo qualcosa potrebbero essere anche gli amici è nel senso magari per tramite degli amici ci conosciamo ma è anche una persona molto affine a noi con cui magari stavamo comunicando con cui stiamo o staremo comunicando assai quindi qui ci sono proprio delle idee comuni quindi ci vedo molta affinità con questa persona una persona molto simile a te caratterialmente parlando ok magari avete le stesse idee magari vi piacciono le stesse cose come stavo dicendo prima eccetera eccetera ok qui fanno vedere due carte di cuore che vi parlano molto di cuore vedi come vanno all'unisono le le carte quindi una persona senz'altro molto istintiva come abbiamo detto come abbiamo detto prima molto istintiva molto emotiva anche se vuoi molto dolce molto solida anche abbiamo visto dalle carte prima una persona molto solida molto concreta però che non si fa troppe pippe mentali nello stesso momento capito una persona molto libera mentalmente cioè se vuole una cosa va e se la piglia qui fanno vedere anche una persona con certe emozioni sicuramente nei suoi confronti una certa passione una certa emozione perché qui fanno vedere l'attrazione l'attrazione fisica sicuramente ma qui c'è anche il cuore c'è anche un'emozione un trasporto nei suoi confronti quindi questa sarà una persona che sarà molto attratta da te sia fisicamente come stavo dicendo sia emotivamente poi quest'ultime due carte messe insieme naturalmente a tutto quello che abbiamo visto qui abbiamo visto il fidanzamento e ci hanno messo un po sul chi va là le carte ci hanno detto fai attenzione un po anche a questa persona potrebbe avere una situazione un po da stare un po alletta qui la morte con la giustizia sinceramente mi fanno pensare a una persona divorziata divorziata separata quindi potrebbe essere un uomo una donna che ha concluso o che sta concludendo è per l'amor di dio un un fidanzamento o un matrimonio per esempio ok una delle due una delle due delle due cose o comunque un rapporto insomma che è stato importante un rapporto proprio formale un rapporto proprio a tutti gli effetti quindi qui fanciulle e fanciulli c'è una persona interessante c'è senz'altro un amore forte una storia un'avventura chiamala come ti pare che potresti sicuramente vivere con una persona molto affine molto affine a te che mostrerà che avrà senz'altro un interesse forte nei suoi nei suoi confronti rapporto che potrebbe anche iniziare come una splendida amicizia e che poi dopo pian piano diventi un qualcosa un qualcosa d'altro non lo escludo affatto vediamo un po anche l'astrologia che cosa ci dice di questa persona guarda qui c'è venere quindi qui c'è venere quindi proprio il pianeta dell'amore della bellezza della come ti posso dire della bellezza dell'amore della passione dei valori quindi senz'altro qui ho una persona che ti piacerà un casino a cui a tua volta piacerai molto qui subito dopo accanto a venere escono i segni d'aria gemelli bilancia acquario quindi non escludo affatto che questa persona sia nata sotto uno di questi segni zodiacali ma potrebbe avere proprio venere in gemelli o venere in bilancia o venere in acquario qui sarebbe carino poi venire a sapere dopo magari quando vi sarete conosciuti da un pochino di tempo andare a vedere un po il tema natale di questa persona basta sapere il giorno di nascita per vedere venere basta il giorno in che giorno è nata uno va a vedere sull'efemeridi se avvenere in uno di questi tre segni zodiacali quindi una persona anche molto comunicativa molto comunicativa brillante amichevole quindi veramente qui si rafforza l'ipotesi che potrebbe essere una persona con cui come si dice con cui avete un forte feeling a livello a livello mentale anche se vuoi è un qualcosa in comune che vi lega che vi lega andiamo a vedere un pochino anche qualche altro segno zodiacale come abbiamo detto può far parte di uno di questi tre segni zodiacali d'aria oppure vediamo ancora qui c'è anche il segno dei pesci potrebbe essere proprio un pesci o uno scorpione per esempio pesci e scorpione non ne tiro più per la natura di questo video ok quindi i tre segni d'aria pesci e scorpione e come dicevamo potrebbe avere la venere in uno dei tre segni d'aria quindi poi mi farete mi farete sapere chi è da dove arriva e tutto quanto mi raccomando in bocca al lufo ametista vediamo un pochino l'avventurina verde chi sta per entrare nella vostra vita partiamo un po dai miei oracoli trovate tutte le info giù nella descrizione del video e andiamo a vedere chi sta per entrare nella vita dell'avventurina verde non ho dato non darò tempi quindi per ognuno di voi questo video si potrà avverare in un momento diverso insomma ok dipenderà da quando tu lo vedrai avventurina verde chi sta per entrare nella vita dell'avventurina verde chi è in arrivo verso di te chi è in arrivo nella sua vita per l'avventurina verde e guarda chi è in arrivo nella sua vita ci sarà un nuovo inizio e guarda caso proprio affettivo qui fanno vedere anche proprio i cuoricini o comunque la dolcezza di questa carta quindi ci sarà un nuovo inizio vediamo qui c'è proprio un nuovo amore che nascerà per l'avventurina verde ci si muove con impeso e velocità quindi un qualcosa qui già ci posso vedere boom proprio boom 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 un bel colpo di fulmine stra qui proprio potreste rimanere folgorate o folgorati avventurina verde non posso ridere ho ancora la tosse che mi ha lasciato il covid ancora non sono non sono al cento per cento però come faccio a starvi lontana qualche video lo devo fare dai non vi posso lasciare così ce la faccio avventurina verde mi sembra di aver visto esattamente volare la carta qualcuno è pentito e vuol chiedere scusa andiamo a vedere cos'altro per l'avventurina verde chi sta per allora aspetta chi sta per entrare nella loro vita avventurina verde avventurina verde chi sta per entrare o signore vabbè ci sarà una perdita sei sulla strada giusta qualcosa di nuovo si manifesterà allora qui ne è caduta una in più e noi ce la prendiamo ovviamente ricchezza e lusso del taglio allora io qui ve la dico così come la vedo non escludo che voi conoscerete avrete a che fare avrete questa nuova love story con un poliziotto un carabiniere molto ci vede un poliziotto un carabiniere comunque se così non fosse comunque una persona che potrebbe indossare un camice quindi un medico un infermiere comunque una divisa va bene potrebbe portare una divisa potrebbe essere una persona che ha subito una perdita come ci dice questa questa carta quindi o ha perso qualcuno recentemente anche nel senso proprio che ha chiuso ha concluso una una storia con qualcuno va bene ha subito una perdita poi mi farete sapere voi di di che tipo di genere una persona molto attiva potrebbe essere una persona anche che fa palestra che fa palestra o comunque molto attiva molto come si dice boom 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 una persona sempre in movimento sempre attiva energica capito composta ma ferma eccetera eccetera a cos'altro qui ecco c'è questo nuovo c'è questo nuovo inizio ma potrebbe essere anche una persona per esempio come lo farai me lo farete sapere con cui avete chiuso magari che c'è stata questa chiusura con voi proprio fatemi sapere va bene fatemi sapere perché qui non lo posso escludere vedo il nuovo inizio ma potrebbe anche essere un nuovo inizio con questa persona con cui abbiamo chiuso qualcosa la vedo un pochino più forzata però non la posso escludere come interpretazione io punto molto più sul nuovo perché qui tutte le carte mi portano al nuovo capito quindi qui c'è una nuova persona un nuovo inizio un qualcosa di nuovo che arriva e anzi io direi è già per strada quindi si tratta proprio di un qualcosa breve secondo me che dovrebbe manifestarsi e penso a mio modestissimo parere che sia questa persona che ha subito una perdita questa persona che sta uscendo o è appena uscita da una perdita molto dolorosa per lei per questa persona va bene quindi penso sia riferita a questa persona però insomma come siamo tanti voglio lasciare un po aperta anche l'altra eventualità proseguiamo andiamo ancora a vedere chi sta per entrare nella vita dell'avventurina verde ok qui ne sono volate due i tune out negative people and thoughts quindi questa l'abbiamo già vista questa carta meravigliosa cioè fanno vedere questa ragazza con le cuffie alle orecchie che proprio si vuole isolare vuole lasciare vuole lasciare fuori dalla propria mente il mondo brutto e cattivo quindi una persona che butta fuori che chiude fuori dalla sua testa ok non vuole sentire pensieri o persone negative I reveal my truth quindi qui c'è una persona che rivela la sua verità quindi qui come vedete le carte ci faiano proprio confermare questo tipo di persona una persona che ha chiuso un qualcosa che ha chiuso un qualcosa di brutto di negativo un qualcosa che non lo faceva stare non lo faceva stare bene lo o la faceva è uomo donna uomo donna che sia andiamo a vedere con i tarocchi con le carte che voi con il mazzo che voi mettiamolo qui questo che voi avete scelto che cos'altro mi dicono di questa persona chi sta per entrare nella vita di coloro che hanno scelto l'avventurina verde vediamo chi sta per entrare nella vita dell'avventurina verde ok il nove di denari chi sta proprio così allora la torre quindi nove di denari torre il re di denari torre il re di spade il carro le stelle e la ruota della fortuna allora qui questi tarocchi parlano 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 ma parlano insieme vanno proprio insieme oh ma proprio non si sbagliano mai ma allora qui fanno vedere come ti stavo dicendo una persona è veramente ha subito un qualcosa di brutto nel senso che ha chiuso una storia o che ha perso qualcuno qui una persona che esce che esce sta uscendo o deve ancora uscire naturalmente ok da un qualcosa di impetuoso un qualcosa che insomma lo fa lo fa stare male questa persona sicuramente ok io qui vedo un qualcosa all'improvviso un qualcosa che accade proprio all'improvviso per destino nella tua vita quindi non lo so potresti conoscerlo proprio potrebbe essere come ti ho detto un poliziotto che ti ferma con la macchina per dire oppure vai in un ufficio dei vigili urbani o da carabinieri a fare la denuncia te lo becchi lì ecco per esempio cioè io ci vedo proprio una persona indivisa indivisa una persona stavo dicendo mi parlano una persona indivisa o comunque con un camice però non è la divisa messa lì questo si muove questa persona si muove quindi o la polizia stradale o insomma fai tu un po' le associazioni mentali va bene ora non è detto sia solo un personaggio con la divisa per l'amor di dio però insomma io lo vedo muoversi detto questo qui ci sarà senz'altro un fortissimo un grandissimo feeling con questa persona da entrambi i lati eh quindi sia da parte tua che da parte di questa persona qui c'è molto feeling molta attrazione eccetera è secondo me una nuova conoscenza come ti stavo dicendo questa è una nuova conoscenza magari l'hai conosciuto già conosciuta questa persona già da poco pochissimo capito ma non credo che sia il tuo fidanzato di quattro anni fa la vedo dura magari semplicemente si è pentito di un qualcosa tipo l'hai appena conosciuto ma si è comportato un pochino male magari l'hai conosciuto non si è più fatto sentire e torna a farsi sentire adesso capito che ti voglio dire ma non un ex di dieci anni fa no c'è troppa novità io qui vedo novità 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 nuova conoscenza quindi magari una nuova conoscenza come ti stavo dicendo fatta da poco ok però non si era più fatto l'hai conosciuto non si era più fatto sentire ecco ora torna a farsi sentire qualcosa di questo di questo tipo potrebbe essere una persona come ti ho detto che indossa un camice una divisa una nuova conoscenza che conoscerai proprio così cioè ci vedo proprio un fulmine a ciel sereno diciamo ecco un po' in quella maniera lì andiamo a vedere un po' anche le carte qui che cosa ci dicono allora per l'avventurina verde per l'avventurina verde bambini bambini vale la pena di aspettare vedi la passione e il nuovo guarda no qui ce lo confermano proprio 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 alla grande potrebbe essere la persona giusta ma rimaniamo con queste che sono già abbastanza belle capito qui ci parlano proprio di un nuovo amore di una nuova passione che nasce quindi una nuova conoscenza e io te lo confermo da tutte le carte che abbiamo visto sia gli oracoli che i tarocchi va bene vale la pena ad aspettare potrebbe essere come ti ho detto prima come stavamo vedendo una persona conosciuta da poco che però magari non si è fatta subito avanti ma lo farà lo farà ma qui bambini nel senso ci può essere coinvolto qualche bambino quindi magari ha figli magari una persona che è già padre o è già madre dipende qui di chi stiamo parlando eccetera però le carte ti dicono vale la pena di aspettare se fosse che state vivendo un momento di stand by insomma la vedo dura da ste arte però questa perdita me lo potrebbe dire un qualcosa che magari si è inceppato in partenza ma poi prende il via qui c'è proprio un nuovo amore una nuova passione che nasce che arriva potreste conoscervi proprio come ti ho detto così per non una coincidenza come si dice proprio per destino vediamo l'astrologia cosa ci dice di questa persona vediamo per l'avventurina aiuto per l'avventurina verde chi sta per entrare nella vita dell'avventurina verde chi entrerà nella vita dell'avventurina verde allora qui fanno vedere la sesta casa la sesta casa che potrebbe essere in cancro in scorpione o in pesci andiamo a vedere e il sole perfetto perfetto allora questa persona potrebbe avere ora lo so dici ma come forza per il tema natale non importa ti dico le caratteristiche di quello che questo rappresenta questa potrebbe essere una persona che ha il sole in sesta casa in un segno d'acqua quindi potrebbe letteralmente essere una persona nata sotto il segno del cancro dello scorpione o dei pesci ok potrebbe essere così una persona fanno vedere molto metodica molto metodica molto precisa se vuoi anche un pochino puntigliosa quindi si ritorna all'idea che ho avuto io della persona con il camice o la divisa potrebbe essere un avvocato per l'amor di dio un avvocato uno studente di lei studente no già più maturo questa è una persona matura ok poi mi farai sapere in un segno d'acqua quindi ricordati cancro scorpione pesci ma non escludo possa anche essere un segno della vergine non lo escludo non lo escludo affatto una persona dicevamo molto meticolosa molto attenta al dettaglio che gesticola molto gli vedo muovere molto le mani le mani quindi magari quando parla gesticola cioè un po' tutto così persona se vuoi anche abbastanza sensibile ma molto razionale che è molto attento al proprio lavoro sicuramente al proprio lavoro ci terrà senz'altro anche un pochino una persona un po' tumultuosa un po' permalosa quindi attenzione magari a come gli parleremo se la potrebbe se la potrebbe prendere per anche per poco quindi tanto qui basta sapere un pochino il giorno di nascita quando vi conoscerete meglio magari dirai che giorno sei nato o nata così andiamo a vedere nelle efemeridi se il discorso torna comunque tenete a mente un pochino i segni oltre a tutto quello che vi ho detto che potrebbe essere nato sotto il segno del cancro dello scorpione e dei pesci potrebbe avere un'influenza importante nel proprio tema natale anche del segno della vergine del segno del leone va bene quindi poi mi farete mi farete sapere io penso di fermarmi qui potrei parlare altri tre giorni ma penso di avere detto non dico tutto ma ma molto quindi dimmi un po' questa persona quando arriverà che cosa ci ritrovi di tutto quello che ti ho raccontato andiamo a vedere l'altro mazzetto adesso ciao quarzo rosa andiamo a vedere chi entrerà nella tua vita mettiamo un attimo i tarocchi qui parcheggiati e partiamo dagli oracoli trovi tutte le informazioni giù lo sai ok per le mie carte allora chi sta per entrare nella vita di chi ha scelto il quarzo rosa chi sta per entrare nella vita di chi ha scelto il quarzo rosa vediamo chi è la persona che arriverà non do tempi quindi per ognuno di voi si può manifestare in un momento ovviamente diverso andiamo a vedere quarzo rosa chi sta per arrivare nella vita di queste persone per il quarzo rosa oh oh cos'è volato qua allora bellissimo qui sarà fatta chiarezza e fanno vedere il sole questa carta bellissima il destino smuoverà le situazioni per te ci sarà una partenza improvvisa andiamo a vedere chi sta per entrare nella vita del quarzo rosa chi sta per entrare nella vita del quarzo rosa vediamo mi è cascato tutto in marzo allora ripartiamo chi sta per entrare nella vita di chi ha scelto il quarzo rosa per tutte queste persone chi entrerà nella loro vita per il quarzo rosa chi entrerà nella loro vita scelgo io scelgo io la carta quarzo rosa ok abbondanza in vista e poi c'è freddezza allora andiamo a vedere ma allora senz'altro qui c'è molto movimento sicuramente qui c'è molto movimento proprio boom 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 qui c'è un qualcosa che si parte si va si viene ora qui fanno vedere senz'altro una partenza un viaggio vedi qui fanno vedere una valigia quindi c'è un qualcosa un qualcuno osere dire io che si muove ora potreste essere voi che durante un vostro spostamento non voglio dire un viaggio proprio che dovete andare dall'altra parte del mondo ma magari semplicemente anche solo in macchina dovete fare uno spostamento sarete in macchina vi spostate qualcosa di questo tipo ma mi potrebbero parlare proprio della persona in oggetto della persona entrerà nella vostra vita che è una persona che si muove molto ok che usa molto la macchina magari che si sposta per lavoro una persona che non è originaria dei suoi luoghi o magari che vive in un paese distante dal tuo insomma c'è questo movimento che riguarda questa persona qui c'è un incontro un vedersi un sentirsi magari potreste iniziare a conoscervi proprio comunicando quindi lo potresti semplicemente anche conoscere questa persona penso al web insomma oggigiorno ce ne sono di modi per conoscersi va bene perché vedo proprio la comunicazione quindi vi potreste conoscere proprio per destino così so come dire cioè non c'è una cosa più organizzata fissata a tavolino ma è proprio un discorso vedi di destino magari non lo so boh vai devi andare da qualche parte a fare qualcosa e te lo becchi davanti ecco un qualcosa di questo un qualcosa di questo tipo poi vedremo man mano con i tarocchi anche che cosa ci dicono questa potrebbe essere una persona senz'altro molto razionale qui mi richiamano molto segni d'aria o di terra comunque poi lo vedremo con l'astrologia quindi non importa potrebbe essere un irriducibile single per esempio posso vedere anche questo una persona molto molto razionale molto razionale molto affidabile anche però è una persona insomma non troppo istintiva né emotiva né coccolosa per carità però insomma una persona di polso senz'altro un lavoratore o lavoratrice insomma dipende naturalmente da chi siete voi e bla 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 poi vedremo anche con i tarocchi guarda I am responsible for my life and I am a dreamer quindi questo è sia una cosa sia l'altra qui mi fanno vedere sia il sognatore quindi sono una persona sognatrice e mi fanno vedere il segno dei pesci quindi tenete a mente anche il segno dei pesci sia io sono responsabile per la mia vita e fanno vedere questa corona quindi qui c'è una persona come stavo dicendo molto responsabile te lo stavo dicendo già dalle carte dagli oracoli da quello ci hanno fatto vedere poi vedremo anche i tarocchi naturalmente però anche queste ci fanno vedere una persona responsabile molto razionale molto affidabile anche anche se una persona che sia tutta ad un pezzo però riesce anche insomma a fare i suoi bei voli di fantasia a sognare quindi non escludo una cosa non esclude l'altra va bene una persona che potrebbe avere un lavoro di un certo tipo aver raggiunto già un certo livello una certa posizione lavorativa una persona bella anche fisicamente non lo escludo affatto molto io lo vedo molto una persona di polso infatti è responsabile non escludo un manager insomma una persona alta in grado in quello che fa non so se mi se mi spiego poi mi farete sapere vediamo un pochino i miei tarocchi che cosa ci dicono ancora di questa persona che arriverà nella tua vita ci sono altri video simili vi lascio i link sotto nella descrizione del video ma anche in fondo a questo video per esempio non so mi viene da pensare ora mentre parlo al video chi sarà il tuo prossimo amore un video molto bello che ho fatto vi lascio i link e ce ne sono altri simili quindi vattene a vedere ne vale la pena chi sta per entrare nella vita del quarzo rosa andiamo a vedere chi sta per entrare nella vita del quarzo rosa chi è la persona che arriverà ok lasso di spade chi sta per entrare nella vita del quarzo rosa il sette di denari asso di spade sette di denari la luna la ruota guarda anche la ruota della fortuna mi richiama il destino che abbiamo visto qui quindi qui guarda non c'è bisogno neanche di stare lì a pensare troppe robe questa è una cosa che arriva da sé e la regina di coppe ma allora qui fanno vedere senz'altro come stavo dicendo di nuovo il destino che ti metterà questa persona sul tuo sul tuo cammino contrariamente a quanto visto in altre come si dice nelle altre stese qui poi magari lo è per carità ma non mi fanno vedere la novità non mi portano al nuovo non mi parlano di nuovo insomma in un video dove io chiedo chi sta per entrare insomma uno presuppone no presuppone la novità conosco un'altra persona no 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 ora vedremo anche anzi vediamolo subito con le altre carte ma qui nulla mi parla di nuovo poi magari lo è per carità ma qui le carte non mi specificano il nuovo anzi anzi qui tendo a vederci il vecchio io magari un chiarire qualcosa con qualcuno di vecchio o il riapparire proprio cioè sarà fatta chiarezza nel senso per destino tu ti ritrovi davanti questa persona con cui già avevi avuto a che fare un tuo ex una persona con cui già c'è stato qualcosa che la vita te lo rimette sul tuo cammino te lo ripiazza davanti allora cosa stavo dicendo relazioni delle vite passate io a volte mi spavento dai una possibilità alla tua relazione lavora sulla coppia relazioni delle vite passate vi siete conosciuti in passato vai si può chiudere le carte bambine e bambini questa è un ex questa persona uomo o donna che sia quindi saprai tu di chi ti stanno parlando tieni la mente aperta quindi non battere piede a dire no 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 ecco qui sarà fatta chiarezza quindi sicuramente qui c'è una persona che ancora ti ha nella propria mente sicuramente io vedo qui una persona che il destino magari proprio per caso vi rivedrete vi rincontrerete va bene dopo un po' di tempo quindi qui ci può essere stato un qualcosa un litigio un qualcosa vi siete persi per un qualche motivo tu volevi una cosa sta persona ne voleva un'altra ma sappi tu la vita fatto sta che il discorso non è concluso qui qui questa persona ti viene rimessa sul tuo cammino proprio dal destino dal caso fortuito quindi magari non è una persona che ti cerca alza il telefono ma il destino se la rimette davanti vediamo l'astrologia cosa ha da aggiungere ok per il quarzo rosa chi sta per entrare nella vita di chi ha scelto il quarzo rosa ok l'ottava casa l'undicesima casa e il trigono allora questa potrebbe essere una persona come ti posso dire una persona senz'altro che potrebbe essere nata sotto il segno dello scorpione o dell'acquario effettivamente io avevo visto i segni di aria non so se te l'ho detto prima ma l'ho pensato dentro di me andiamo a vedere ancora un altro un qualcosa su questa persona per favore per il quarzo rosa vediamo se ci danno ok qui mi fanno vedere una persona con Marte in quarta casa va bene e poi abbiamo visto tutte le tutte le altre cosine astrologiche allora qui potrebbe essere una persona appunto che ha Marte in quarta casa o Marte in cancro quindi magari sembrerebbe tanto un uomo tutto un uomo tutta ad un pezzo poi invece una persona molto sensibile non ci dimentichiamo che qui abbiamo abbiamo visto questa carta che ci parla di sognatrice una persona sognatrice il segno dei pesci quindi molto sensibile quindi magari una persona che all'apparenza sembra una tutta ad un pezzo invece poi alla fine è una persona che ha anche dei sentimenti delle emozioni molto molto forti e bla 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 è sia la cosa sia l'altra ok quindi potrebbe avere forte nel proprio tema natale il segno dei pesci come ti stavo dicendo dello scorpione l'acquario ma anche il segno del del cancro e dell'ariete quindi dimmi un pochino o comunque fai mente locale su di chi di chi magari le carte ti stanno ti stanno parlando ok una persona la vedo molto sensibile senz'altro o trova o ritiene comunque sia il proprio spazio molto molto importante la propria intimità la propria privacy ecco mi veniva la parola quindi senz'altro una persona che potrebbe vivere sola o comunque avere bisogno di vivere solo di avere un proprio spazio proprio fisico che stassene per conto suo anche un pochinino per malosina eh anche un pochinino per malosina mi sembra anche una persona se la devo di proprio tutta grazie all'astrologia questa è una persona che non sopporta le porte chiuse facci caso poi me lo dirai magari a dormire oppure in casa un po' vedere le porte cioè le porte devono essere tutte aperte però devono essere un luogo intimo anche abbastanza scuro abbastanza riservato ecco quindi un po' ombroso anche come carattere eh devo dire comunque bando alle ciance il grosso è questo io credo che non sia una persona nuova assolutamente ma una persona con cui già tu hai avuto a che fare una persona che già in passato ti aveva rubato il cuore va bene quindi poi mi racconterai io per adesso ti ringrazio e ti aspetto sempre qui con me al prossimo video ciao 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 ciao